Davide, come al solito, ha voluto impostare lo spettacolo come una visione articolata della società. È uno spettacolo che ogni tanto ti trae in inganno e non capisci se è vicino a te nei tempi, lontano, nell'epoca di Rigoletto. È uno spettacolo che gioca diversi piani. Sono tutti dei piani reali, ma hanno tutti uno sguardo onirico, quasi da incubo. La visione di Davide si traduce in costumi che spaziano, spaziano dagli anni Sessanta al tardo Cinquecento, spaziano nei colori, accompagnano le visioni dei nostri artisti come se fossero parte integrante di un'immagine cinematografica. È uno spettacolo che ha le sue difficoltà perché c'è il coronavirus, ci sono le maschere, ma Davide è riuscito a trasformare la maschera in un segno che accompagna lo spettatore dentro la malvagità e la disperazione, la purezza, l'amore e tutti gli aspetti dell'animo umano. Vi invito a seguirci, siamo qui al Teatro del Maggio, sarà sicuramente interessante. Grazie.